Musica Cuspa Via Atletica, facciamo un po' il punto della situazione all'inizio di una nuova stagione Dunque abbiamo avuto questa ripresa l'ultima parte di stagione, il mese di settembre, che è stato decisamente esaltante Ci aspettavamo che ci fossero dei buoni risultati ma probabilmente siamo stati anche un po' sorpresi noi in positivo per fortuna C'erano tre appuntamenti decisivi per la stagione, abbiamo avuto campionati regionali allievi individuali il secondo weekend di settembre E poi abbiamo avuto al terzo weekend la finale regionale cadetti dove avevamo la squadra femminile che era entrata con l'ultimo posto in Lombardia E grazie alle grandi prestazioni delle nostre ragazze hanno risalito la china fino al nono posto Poi abbiamo avuto nel quarto weekend di settembre invece i regionali individuali cadetti, questa volta c'erano anche i maschi E abbiamo avuto anche lì diversi record personali nonostante fosse comunque un finale di stagione Sintomo che la squadra ci ha messo test, gambe e cuore perché specialmente ai campionati regionali di società La carica che hanno dimostrato è stata quella vincente che ci dà fiducia Testa, gambe e cuore per tre appuntamenti molto importanti a settembre Comunque hai trovato una squadra dopo l'estate che ha mantenuto la forma Beh diciamo che qualcuno ha mantenuto, qualcuno ha fisiologicamente perso Però la ripresa degli allenamenti a fine agosto ha contribuito poi a riportare su una condizione Quel tanto che basta per fare bella figura o qualcuno addirittura che ha perso meno Come dicevo è riuscito addirittura a incrementare, a fare dei record personali Mercoledì, anzi lunedì, mercoledì e venerdì gli allenamenti a Campoconi Che chiuderà la stagione estiva il 17 ottobre con una bella manifestazione Come vi state preparando? Dunque sì, questi sono i tre giorni canonici poi nei quali abbiamo ancora altri giorni supplementari Diciamo per i più grandi, per esempio i mezzofondisti un po' più grandi fanno anche il martedì per esempio E sempre il martedì sera abbiamo poi il Running School E approfitto per pubblicizzare la nostra attività E dunque ecco dicevi tu del 17 ottobre che è una gara che è stata inserita da poco in calendario Distanze spurie, 200 metri, 1000 metri per tutti dai ragazzi agli allievi Diciamo che per i nuovi arrivati sarà un'occasione per avere un valore Dare un valore a quello che stanno facendo in questo momento e partire per una nuova stagione Per gli altri che stanno già lavorando da un po' di tempo E' un modo per chiudere in allegria la stagione e festeggiare magari un buon risultato Per proseguire l'invernale serenamente E ripartire con la giusta carica anche emotiva, anche di motivazione Perché in fondo diciamocelo queste gare danno anche nuova grinta, entusiasmo Per affrontare l'inverno che per l'atletica non è sempre una stagione ridente, una stagione facile Esatto, sono pienamente d'accordo con la tua affermazione Perché per i mezzo fondisti c'è la possibilità di fare i campestri Per cui la monotonia degli allenamenti invernali viene un attimo spezzata Mentre per i velocisti le indoor non sono così facili da raggiungere Ce ne sono in Lombardia ma per i cadetti specialmente pochi Abbiamo un po' di allievi, c'è ragazzi che passeranno da allievi Per cui avremo qualche possibilità in più E notizia di questi giorni è l'apertura probabile Ce la auspichiamo dell'impianto dell'anello indoor, del pala indoor di Genova 200 metri di anello che sarebbe providenziale per avere una stagione indoor accettabile Allora incrociamo le dita e diamoci appuntamento al 17 di ottobre La mattina, giusto? No, al pomeriggio, nel primo pomeriggio incomincia le gare Ok, primo pomeriggio possiamo dare un orario al 14.30 17 ottobre al Campoconi Grazie mille Marcello Grazie a te Dario Grazie a te Dario